Ho frequentato l'istituto Tullio Buzzi con la prospettiva che poi avrei comunque affrontato un lavoro nel campo tessile. Ho iniziato a lavorare all'anificio Bellandi occupandomi della produzione per quanto riguarda i finissaggi dei tessuti. Mi sono affacciato a ciò che è la creazione di un tessuto partendo dal filo e arrivando fino al prodotto finito. È un lavoro molto variegato, ogni giorno si affrontano mille problematiche però alla fine ti dà anche una grande soddisfazione. Lavoro in questa azienda da quasi tre anni, ho avuto dei tutor che mi hanno affiancato e indirizzato a quella che è stata poi anche la mia formazione. Per quanto riguarda il mio lavoro penso che comunque sia già un traguardo importante. Spero di imparare ancora il più possibile ma soprattutto anche di crescere io come figura all'interno di questa azienda. Grazie a tutti!